buongiorno a tutti allora magliettina perché è giusto farla vedere perché dovevo fare il video che riguardava la coppa america penso 1997 ma devo controllare ma mi sembra che siamo la prossima sarà 1997 fuga da new york se ci fa per dire a parte gli scherzi e invece mi hanno fomentato perché leggevo un ragazzo che ha scritto che lui salberto non si è presentato al ritiro alan non si è presentato al ritiro ed eric che non si sono presentati al ritiro e naturalmente subito a darci contro ai procuratori che sono il danno del calcio eccetera eccetera siamo sempre lì è un po come la fpf prima c'erano i mecenati che spendevano spandevano poi prendevano e si rendevano conto che hanno speso troppo la società falliva e finiva in serie di però magari nel in quell'arco di tempo che c'era questo mecenate vinceva magari qualcosa anche le medio piccole la parma che vinceva delle coppe poi è fallito c'è stato il parma e tu a fiorentina che aveva una bella squadra poi fallita anche lei la lazio che ha rischiato di fallire lo tito ha spalmato i debiti in 50 anni eccetera che li pagheranno anche i suoi figli e si è salvato quindi hanno creato l'fpf che però dà problemi nello stesso tempo perché ci sono squadre che prendono gli sponsor come bere un bicchier d'acqua che sono lì che gli elargiscono soldi omaggio ci sono presidenti che utilizzando sue ditte esterne che però non appaiono sue ditte si fa mandare i soldi o addirittura è lo stato a mandargli i soldi perché lui è proprietario di uno stato intero ci sono aziende che usano lo sponsor esterno per farsi comprare il giocatore quindi cercano di ma alla fine devono sempre pagargli lo stipendio al giocatore quindi vanno in deficit anche loro e quindi non si capisce più niente non andava bene prima perché un sacco di volte le squadre per evitare questo si sono creati le fpf eccetera per mantenere le squadre in bilancio però giustamente siccome le squadre vogliono vincere vogliono spendere cercano qualche scamotage per sviare quindi poi le altre squadre che rispettano le fpf hanno delle squadre inferiori si incazzano è uguale vale al discorso dei procuratori prima non c'erano quindi il giocatore era di proprietà di una squadra che ne poteva fare quello che voleva e infatti ci sono stati all'inter di episodi eclatanti di Boninsegna e Oriali Boninsegna nel 76 77 nel 77 nel 76 adesso non ricordo esattamente quale dei due anni è mi sembra il 77 poi poteva essere anche il 76 venne costretto ad andare alla Juve lui non ci voleva andare lui non ci voleva andare però siccome il contratto era dell'Inter era firmato con l'Inter il suo cartellino era dell'Inter e l'Inter poteva fare ciò che voleva di lui e del suo cartellino quindi se decideva di venderlo lui era costretto a prendere ad andare nello stesso tempo nel 78 l'Inter era proprietaria del cartellino di Oriali giocatore che arrivava addirittura dalla primavera quindi si era fatto tutta la trafila aveva giocato anche la finale del 72 ad Amsterdam marcando ai McRuiff che lo fece ammattire perché finché c'era in campo Giubertoni non riusciva a farli ammattire perché c'era l'armadio e non si passava quando l'hanno spezzato l'hanno distrutto un fallo da rosso e dieci giornate di squalifica manco sanzionato Oriali se l'è perso vabbè comunque nel 78 Oriali volevano spedirlo all'Ascoli e gli disse no io all'Ascoli non ci vado o resto all'Inter o smetto di giocare a calcio e allora l'Inter si autoconvince di tenerlo anche per questo sono arrivati i procuratori un po' come sul lavoro 120 130 anni fa se vedevate i contratti di lavoro che c'erano io non posso ma mi sareste messi le mani nei capelli avreste detto questo è schiavismo non è possibile per questo sono nacquero i sindacati e per questo nacquero i procuratori che però adesso fanno il bello e il cattivo tempo quindi i giocatori fanno quello che vogliono hanno un contratto con un'azienda gli viene il mal di pancia se ne vogliono andare l'azienda gli dice va bene te ne vuoi andare però per noi hai questo valore non arrivano offerte per quel valore lì però il giocatore se ne vuole andare allora la società deve le altre società sapendo che questo se ne vuole andare se ne approfittano fanno cosa al ribasso apposta perché tanto sanno che il giocatore la volontà del giocatore di andarsene e quindi giustamente la gente si incazza con i procuratori perché un giocatore che non si presenta sul posto di lavoro cioè c'è il raduno tu non ti presenti io ti pago ciccio e tutti i presenti invece lui non si presenta perché perché se ne vuole andare capite che anche qui c'è il dibattito giocatori che non se ne vogliono andare sono costretti ad andarsene perché allora contava la volontà della società e adesso conta sempre la volontà del giocatore quindi siamo sempre lì o è troppo da una parte o è troppo dall'altra la via di mezzo non c'è mai la via di mezzo non c'è mai cioè una volta era la società che ha il coltello dalla parte del manico il giocatore doveva stare il muto a meno che non era fine contratto che diceva signori arrivederci grazie me ne vado da un'altra parte come appunto fece un reali nell'82 campione del mondo eccetera doveva rinnovare con l'inter gli arrivò una offerta migliore dalla fiorentina fra i soli braccino corto come sempre gli ha fatto un'offerta anche buona ma la fiorentina l'ha fatta migliore lui è andato a firenze e li vedete la differenza contatti scadenza la fiorentina mi vuole vado da loro mi offrono x tu mi offri y e io vado mi pagando di più lo stesso fece bordon che andò alla sandori pagando di più e noi avevo ci andò bene ci arrivò zenga però ragazzoli e siamo sempre lì e io ripeto lo dico sempre quando dico bisogna esonerare quella lena non gli allenatori si esonerano solo ed esclusivamente se non hanno in mano la squadra se il capitano della squadra va dal presidente gli dice senta io e i miei compagni ma parlo io anche per loro l'allenatore non lo vogliamo ce lo tolga dalle palle l'allenatore va esonerato se è il bimbo minchia della situazione mentre l'allenatore ha tutti i giocatori dalla sua parte e allora no se anche l'allenatore sta facendo male ma la squadra è con lui io non lo cambierei lo stesso perché comunque la squadra c'è è quella lì se è scarsa anche se cambi l'allenatore ripeto se tu guidi la ass anche se ci metti sopra emilton la ass farà cagare lo stesso scusate il francesismo quindi siamo sempre lì e adesso il fatto che questi alan eccetera se ne vuole andare al real madrid vuole andare al paris angelo vuole andare in una squadra forte è logico che il bon dormon non è che lo può vendere a 50 milioni non è vendere a 180 180 non ce li ha nessuno e ciccio resti lì non è che puoi farci gran che stai lì ti fai un altro anno lì dimostri di essere forte al dormon che ha avuto fiducia in testa dell'unica squadra che ti ha preso da dal salisburgo non doveva prendere la juve non a prendere l'interno a prendere questo questo quell'altro non l'ha preso nessuno perché non si fidavano l'ha preso il dormon e fa bene a venderlo alla cifra che vuole l'ha pagato 40 fa bene a venderla a 160 180 e però il signorino non si presenta se fossi la uefa quando si comportano così gli dico ciccio o tutti presenti o tu non giochi più a calcio ti radiamo anche se sei il giocatore più forte che in uguale non si presenta al tottenham cioè ripeto da una parte era sbagliato che obbligavano i giocatori ad andare in squadra che magari non gli interessavano ti ho venduto ci va da lei alla juventus gli rispose buon insegna giustamente e però adesso è sbagliato dall'altra parte che è sempre il giocatore che ha un contratto a dire non mi interessa giocare con voi io voglio andare lì va bene noi ti valutiamo ci porti quei soldi e non ce li danno io me ne voglio andare lo stesso e noi dobbiamo smenarci perché tu c'hai le fisime ragazzi fatemi sapere secondo voi se appunto si è passati da una parte dall'altra e comunque sono sbagliate tutte e due e qual è secondo voi il giusto compromesso tra le due cose quindi prima la società che aveva il coltello sempre dalla parte del manico e il giocatore dove andare dove lo manda la società e adesso che invece il giocatore a decidere dove andare però giustamente la società se vende il suo big vuole il cash e quindi giustamente non può smenarci lei quindi ditemi voi per me non esiste né una né l'altra cioè la via di mezzo non si troverà mai e quindi avremo sempre un estremo o un altro e se situazioni poco simpatiche come direbbe il buon moratti detto questo come sempre il web mi fomenta mi regala momenti di fomento diciamo e quindi ditemi voi il vostro pensiero ciao